Video di Lion Tiger e Crocodile Questa è la casa, fagliela vedere prima da fuori Allora, questa è la nostra casa Costituita in più di un'ora Molti di voi pensavano che l'abbiamo fatta un po' a caso E' vero, però dai, diciamo, l'ha dovuto bere Questo è il suo lato, l'abbiamo diviso, visto che ci abitiamo in due Due letti Questa è la camera da letto Questo è l'ingresso, invece Poi abbiamo fatto una cantina anche nella mia parte Che vedremo dopo Per i mostri Questo è il secondo piano Anzi, il primo piano, precisamente Allora, questa è la TV Qua, diciamo, per le provviste Il bar, praticamente Poi c'è un piano di sopra Oppure soffitta, come potete chiamarla voi Abbiamo fatto anche qualche raggiatela Dove abbiamo visto tutte le cose che ci potrebbero servire Se non avessimo a mettere la survival Da ricordare, questo è il nostro primo video Quindi speriamo di avere abbastanza vivi Siete generosi Fagli vedere la vicina L'ha fatta lui, molto bello E poi fagli vedere la cuccia Ok, da questo è il lato di Lion Tiger Adesso vediamo il mio lato Oppure Crocodile Vedete il tetto La mia parte che è scacchiera Questa parte, invece Come vedete, è giallo e blu Questo abbiamo un albero Questa è la mia schifosissima viscina Che fa pena Non sapevo come farla Vabbè Lasciate stare Allora Qui ci sono due letti Me la sei bello E un matrimoniale Poi ho messo il lampadario Questa è la cantina E dentro ci ho fatto un mar Poi metteremo dopo Le provviste, le armi, ecc Poi questo è il piano di sopra E vabbè Abbiamo fatto i buchi così In realtà Prima era un errore Diciamo Poi abbiamo visto che ci piaceva L'abbiamo continuato Poi qui c'è la tv Con il divano Poi qui c'è la tv